buongiorno a tutti oggi è il 16 marzo 2021 e sono le ore 9 si procede a chiamare l'appello per accertare la presenza dei consiglieri della prima commissione consigliare in prima convocazione presidente evola vicepresidente mineo consigliere forello consigliere chinici consigliere sala consigliera rini consigliere ferrandelli poiché nessuno dei consiglieri è presente presente si rinvia la seduta in seconda convocazione alle ore 10